Figlio del cantautore Antonello Venditti e della doppiatrice, attrice, sceneggiatrice e regista Simona Itzo, sceglie di seguire la strada della madre, dedicandosi giovanissimo sia alla recitazione che al doppiaggio. Quest'ultimo è il lavoro, anche, del nonno Renato Itzo, delle zie Rossella Itzo, gemella della madre, a sua volta madre dell'attrice e doppiatrice Miriam Catania e della doppiatrice Giulia Catania. Fiamma Itzo, madre delle doppiatrici Lilian Caputo, Rosa Caputo e Danita Valenzi, e Giupi Itzo, madre dei doppiatori Nicae Pucci ed Alessandro Mottini. Anche i suoi due figli Tommaso ed Alice, avuti dall'attrice Alexandra La Capria, hanno iniziato a lavorare nel doppiaggio. Nel 1996 debutta come attore nel cinema con il film Vite strozzate, regia di Ricchi Tognazzi, secondo marito di sua madre, e appare per la prima volta in televisione nel film TV diretto da Paolo Poeti, compagni di Branco, tra gli altri suoi film. Camere da letto, 1997, diretto da Simona Itzo che lo dirige, anche, insieme a Ricchi Tognazzi, in Io no, 2003, romanzo criminale, regia di Michele Placido, e Gas, sceneggiato da Alexandra La Capria e da Luciano Melchionna che ne cura anche la regia. In televisione ha recitato in numerose fiction, di cui alcune dirette dalla zia Rossella, nel 1997 in Caro Maestro 2, nel 1998 e nel 1999 nelle due edizioni di Una Donna per Amico e nel 2002 nello Zio d'America. Nel 2003 interpreta il ruolo di Nicola Catania da giovane nella miniserie Il Papa Buono, regia di Ricchi Tognazzi, nel 2004 e Britannicus in Imperium, Nerone, regia di Paul Marcus, nel 2006 ha il ruolo di Cristiano Keller nella Freccia Nera, regia di Fabrizio Costa, e di Fausto Corradi in Questa è la mia terra. Per la regia di Raffaele Mertes, entrambe miniserie trasmesse da Canale 5, nel 2008 e protagonista, insieme ad Adriano Giannini e Claudia Zanella, della miniserie di Rai 1. Amore proibito, regia di Anna Negri, presentata in anteprima nel 2007 nel corso della prima edizione del Roma Fiction Fest, nel maggio del 2009 torna sul grande schermo con il film più volte rimandato, intitolato Polvere, regia di Massimiliano De Piro e Danilo Proietti. Nello stesso anno gira Gangia Fiction, regia di Mirko Virgili, Le ultime 56 ore, diretto da Claudio Fragasso, e 5, regia di Francesco Maria Dominedò. Nel 2010 interpreta il sindacalista Mario in Mia Madre, regia di Ricchi Tognazzi e con Bianca Guacciaro. Nel 2011, vince il Leggio d'Oro Voce Maschile dell'Anno. Il 30 settembre e il primo ottobre 2012 è su Rai 1 in il caso Enzo Tortora dove eravamo rimasti. Regia di Ricchi Tognazzi, soggetto di Simona Izzo e ancora con Tognazzi e la Guacciaro, nello stesso periodo e concorrente. In coppia con sua mamma Simona Izzo, del reality Pechino Express, condotto da Emanuele Filiberto di Savoia. Venendo eliminati nel corso della quarta puntata. Poco dopo ha un piccolo ruolo nella miniserie L'ultimo Papa Re.